Emergenza e rifiuti, Palazzo Chigi pronto a dare l'ok per la realizzazione del primo termovalorizzatore in Sicilia. Traffico in tilt da stamattina a Palermo in via Crispi, chiuso il sottopasso all'altezza di piazza 13 vittime. Venerdì la prima edizione della 6 ore di Mondello, l'ultramaratona organizzata dalla SD Palermo Running. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews. Oggi è mercoledì 6 dicembre, come avete già sentito nei titoli parliamo di Emergenza e rifiuti. Palazzo Chigi pronto a dare l'ok per la realizzazione del primo termovalorizzatore in Sicilia. Il Ministero dell'Ambiente ha dato il via libera all'impianto a San Filippo del Mela. Per l'autorizzazione manca soltanto un parere della soprintendenza di Messina. Intanto oggi il Presidente Musumeci a Roma per l'emergenza di scariche. Il Governo nazionale è pronto a dare il via libera alla costruzione del primo termovalorizzatore in Sicilia, bypassando la regione che al momento ha in vigore un vecchio piano di rifiuti varato dal Governo Lombardo, che non prevede questo tipo di impianti. Il Ministero dell'Ambiente la scorsa settimana ha dato parere favorevole al progetto. Adesso, per l'ok definitivo e la firma da parte del Ministro Gianluca Galletti della valutazione di impatto ambientale, manca soltanto un parere della soprintendenza di Messina. Parere che tre giorni fa è stato sollecitato dal Ministero dei Beni Culturali. In caso di parere negativo, l'Iter però non si bloccherà. La decisione finale sarà presa direttamente dal Consiglio dei Ministri. Il termovalorizzatore potrebbe sorgere, nonostante l'attuale piano rifiuti non ne preveda la costruzione, in virtù del cosiddetto decreto Renzi, datato 2015, che fissava per la Sicilia una quota di rifiuti da valorizzare energeticamente con due inceneritori. Intanto, proprio oggi, il governatore siciliano Nello Musumeci è partito per Roma per incontrare il Ministro dell'Ambiente Galletti. Sul tavolo la proroga dell'ordinanza commissariale, senza la quale le discariche chiudono subito. La questione rifiuti, infatti, è il primo grande problema sulla strada del nuovo governo regionale. Un provvedimento necessario, quello della proroga, per togliere l'immondizia dalle strade di mezza Sicilia e mettere nero su bianco le prime risposte che Palazzo d'Orlean dovrà fornire a Roma, dimostrando di avere una roadmap con idee concrete per uscire dalla crisi. E sempre in tema di rifiuti, il nuovo assessore regionale all'energia, Vincenzo Figuccia, volato a Roma con Musumeci, afferma agiremo con determinazione e puntando non a interventi tampone, ma ad una riforma. Vogliamo uscire dall'emergenza e per queste ragioni concorderemo una serie di misure con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo avviato un confronto con il governo regionale su come affrontare l'emergenza a rifiuti e su quali metodi usare per la loro virtuosa e moderna gestione. Abbiamo trovato un presidente della regione che vuole ascoltare, capire e farsi un'opinione sull'argomento, scevro da posizioni preconcette di parte. Questa ci sembra già una novità, ha affermato invece Gianfranco Zanna, presidente di Lega Ambiente Sicilia. Il presidente Musumeci ci ha detto che vuole trovare delle soluzioni condivise, che partendo dalla gravità della situazione, dove da alcuni anni vige l'anarchia e la confusione più totale, soprattutto sul fronte delle responsabilità, faccia tesoro delle esperienze fatte da altre regioni, come la Campania o la Sardegna, che fino a 4-5 anni fa erano nelle nostre stesse condizioni, con i rifiuti per strada e le discariche piene. Auspichiamo vivamente, aggiunge Zanna, che il governo nazionale, insistendo pervicacemente con la proposta di realizzare un inceneritore, perfino contro le nostre norme di tutela del territorio e del paesaggio, non faccia saltare questo inizio di dialogo. Chiediamo al presidente Musumeci di dire, già all'incontro con il ministro Galletti, delle parole chiare, nette e ferme su questa sciagurata ipotesi, inutile, di forte impatto ambientale, vecchia e anti-economica. Con la differenziata al palo e senza un'oasi ecologica, anche Palermo rischia di ricadere nell'emergenza rifiuti. Ascoltiamo il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo. C'è un'emergenza in atto. Da parte della dirigenza della RAP è emerso che la sesta vasca è praticamente asorita. Quindi la città di Palermo non avrà più la discarica a disposizione. Saremo costretti a portare i rifiuti indifferenziati fuori dalla città di Palermo. Non abbiamo, attendiamo da parte della regione chiarimenti in merito, molto probabilmente i rifiuti saranno dirottati a Catania o addirittura fuori dalla regione. È un'emergenza che colpirà sia la partecipata che non ha a disposizione le risorse per affrontare questa emergenza in quanto il trasferimento dei rifiuti fuori dalla provincia comporterà degli oneri e dei trasporti notevoli. Inoltre il Comune di Palermo non ha a disposizione le somme per costruire la settima vasca cui l'importo è di circa 30 milioni di euro. Quindi è un'emergenza a cui il sindaco Orlando, che finalmente si è svegliato, perché noi abbiamo segnalato, è circa ad agosto che segnalemo questa anomalia, questa emergenza, finalmente il sindaco si è svegliato, ha affidato la delega all'assessore Nicotri, che è persona stimabilissima però, non si capisce, regna il caos, perché si evidenzia ancora di più il caos perché abbiamo un assessore riolo che alla delega le partecipate e quindi può occuparsi della vicenda di scarica legata all'ARRAP, un assessore che è anche il vice sindaco Marino che è stato presidente dell'ARRAP, quindi non male conosce la macchina dell'ARRAP, le questioni legate all'igiene di questa città, e anche l'assessore al ramo ambiente, il sindaco ha deciso di affidare all'assessore Nicotri, che ripeto è una persona stimabilissima, questa emergenza legata alla discarica. Quindi si vanno a intrecciare questi trassessori e si conferma che questa città, questa amministrazione e questo sindaco non ha una chiara visione di quello che occorre fare per la gestione dei rifiuti, una visione abbastanza caotica dove l'ultimo dato ISPRA pubblicato circa un mese fa parla di una raccolta differenziata al 2016 ferma a 7%, quindi una raccolta differenziata che non decolla, Palermo a differenza 2 ferma al primo step, ricordo che nel 2014 l'assessore Marino e il sindaco Orlando avevano annunciato in pompa magna l'avvio di Palermo a differenza 2 che doveva convolgere altri 130.000 abitanti da zona Strasburgo, centro storico, sino a Brancaccio. Di tutto questo è soltanto partito il primo step di Viale Strasburgo per 18.000 abitanti. Quindi c'è una continua emergenza, la discarica è esaurita, la settima vasca adesso si rende necessaria, ma non è quello che può in qualche modo cambiare il circuito rifiuti, non è quella la strada da perseguire, ma ormai abbiamo sbattuto la faccia perché questa amministrazione non è riuscita a far decollare la raccolta differenziata, saremo costretti a fare altri buchi, a seppellire altri rifiuti quando i rifiuti possono diventare una risorsa e sono una risorsa in molte città italiane e nel mondo. Quindi noi saremo costretti, visto l'incapacità da parte di questa amministrazione, di fare un ennesimo buco a Bello Lampo, le discariche comunque hanno delle loro criticità legate all'inquinamento ambientale, alla produzione di percolato, quindi faremo questo ulteriore buco e la città di Palermo ancora non si è riuscita a dotare di un centro comunale di raccolto, un'isola ecologica. Traffico in tilt da questa mattina a Palermo in via Crispi, chiuso il sottopasso all'altezza di piazza 13 vittime. Lavori di manutenzione urgente per un paio di giorni. Vigili invitano gli automobilisti a cercare percorsi alternativi. Caos anche al Cassaro Basso, dove è partita la semi-pedonalizzazione. Caos già da questa mattina a Palermo a seguito di un'ordinanza del comune che ha predisposto la chiusura del sottopassaggio di via Crispi all'altezza di piazza 13 vittime dalle 9.15 fino alle 17. Lo stop alle auto consentirà agli operai di effettuare con un carrello elevatore alcune verifiche alle pareti e sulla soletta del cavalcavia. Sarà vietata al transito la carreggiata in direzione del foro italico, grande disagio per la circolazione anche se limitato ad alcune ore. Non verrà per il momento effettuato alcun lavoro, ma solo delle verifiche per valutare l'entità delle crepe e le tracce di umidità. I tecnici decideranno se sarà poi necessario un intervento. A risentire dell'ordinanza soprattutto i residenti e i lavoratori di via Francesco Guardione che già da un mese si trovano a subire il disagio causato dalla chiusura della strada per alcuni lavori. Si tratta di una zona completamente congestionata che mette a dura prova la pazienza di molti. Per raggiungere via Guardione infatti i residenti si trovano a dover partire da casa molto presto e trascorrere più di un'ora all'interno delle proprie auto in mezzo al traffico, sperando poi, una volta raggiunta la destinazione, di trovare parcheggio. Il traffico dunque ne risentirà pesantemente. All'altezza del sottopassaggio in via Castello, dunque in superficie, c'è già un restringimento a casa dei lavori del collettore Fognario, mentre nel tratto precedente tra via Archimede e via Mari c'è il maxicantiere dell'Anello Ferroviario. A creare ulteriore confusione anche la concomitanza con un altro provvedimento, quello della semi-pedonalizzazione di corso Vittorio Emanuele tra via Portosalvo e via Roma, partita oggi. Da stamattina le macchine lungo il Cassaro Basso circolano soltanto in direzione di via Roma. L'obiettivo è di allargare i marciapiedi per promuovere la mobilità pedonale. Avviamo oggi una nuova sperimentazione che durerà fino alla fine del periodo delle festività natalizie di Capodanno, affermano il sindaco Leluc Orlando e l'assessore Riolo, al termine della quale faremo una valutazione dei risultati. Questo provvedimento è il segno del grande cambiamento culturale in atto a Palermo, un risultato importante per la vivibilità non solo del centro storico della città. Inoltre, sempre da oggi e fino al 17 dicembre, dalle 16 alle 24, ha inizio il festival dello Street Food, che pedonalizzerà per intero il secondo tratto di corso Vittorio Emanuele. Sabato, domenica e festivi, stop totale alle auto dalle 10 alle 24. La manifestazione coinvolgerà anche Piazza Marina. Finito lo Street Food, la strada resterà semipedonale la mattina e pedonale il pomeriggio fino al 7 gennaio. L'unica strada alternativa a Via Crispi potrebbe essere Via Macqueda, ma la Polizia Municipale esclude momentaneamente una riapertura al traffico. Se la ditta non avrà completato il lavoro, la corsia in direzione del Foro Italico chiuderà anche il 7 dicembre. Una Blue Economic Zone nel Mediterraneo, questa la proposta del distretto della Pesca e Crescita Blue e dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo per superare la cosiddetta guerra del pesce che ha provocato negli ultimi 50 anni 3 morti e 27 feriti colpiti dal fuoco di militari di paesi riveraschi. Grazie al FEAMP abbiamo rilanciato soprattutto i bandi sulla pesca artigianale e sui giovani. Per la prima volta si sta facendo il bando di insediamento giovani pescatori, a che si davano 40.000 euro per rottamare le barche, a che invece 40.000 euro saranno corrisposti per tirocini biennali da parte di giovani, con a fianco un pescatore, perché finalmente l'Unione Europea ha riconosciuto il valore pedagogico e antropologico della pesca e quindi pone nella catena generazionale, nella trasmissione dei saperi dall'adulto al giovane l'elemento centrale per affrontare il Mediterraneo e per affrontare la pesca. Gli altri due bandi saranno uno sulla trasformazione diretta da parte della famiglia del pescatore e sulla vendita diretta, quindi anche qui un cambio di paradigma, finora è stata finanziata solo l'industria e la trasformazione, oggi invece viene finanziata direttamente la famiglia del pescatore. E il terzo invece sarà sugli attrezzi selettivi, un tema che l'Unione Europea tiene in maniera particolare, perché con la nuova normativa sul divieto di rigette è chiaro che il problema va risolto a mondo, attrezzi più selettivi ridurranno la quantità di prodotto che poi sarà rigettato in mare. L'osservatorio della pesca del Mediterraneo riunisce i responsabili politici, amministrativi, tecnici, giuridici, economici, di tutti i paesi della sponda sud del Mediterraneo, la Sicilia al centro. Questo organismo della regione siciliana e del distretto della pesca ha l'aspirazione di mettere insieme un condominio, creare in questo condominio delle volontà comuni, fare manifestare quei progetti, quelle idee, quelle iniziative che servono a salvare il Mediterraneo. La proposta che viene oggi è quella della creazione di una Blue Economic Zone, una zona vasta di scambio, di libero scambio, una zona nella quale la progettualità di tutti i paesi riveraschi deve tendere a creare delle regole comuni. Se non ci sono regole comuni, se non si fa insieme la lotta alla pesca illegale, se non si fa insieme un'attività protesa a salvaguardare le risorse marine viventi nel Mediterraneo, questo Mediterraneo morirà. E noi non vogliamo che muoia così, perché se continuiamo con le regole che ci sono imposte oggi, cioè la demolizione uguale riduzione sforzo di pesca, questa è un'equazione sbagliata, qui ci vogliono dei piani di gestione comuni, e di questo parleremo oggi. Parleremo insieme di creare opportunità comuni, di fare in modo che le regole vengano stabilite insieme agli attori scientifici, agli attori dell'ambiente, agli attori dell'economia e soprattutto delle nazioni, nazioni che devono essere protagoniste del loro futuro, perché soltanto se lo sono possiamo salvare insieme il nostro Mediterraneo. Sono contento della mia presenza all'Osservatoio della Pesca e ringrazio Giovanni Tumbiolo per l'invito. Qualche mese fa eravamo insieme al Salone dell'Agricoltura Pesca in Tunisia e abbiamo già intrapreso un progetto comune. Oggi tratteremo temi delicati, come i recenti problemi avuti nel Mediterraneo, poi parleremo della produzione e della gestione degli stock ittici e di altri argomenti comuni che dipendono anche dalla Tunisia. La quinta commissione consigliere del Comune di Palermo ha fatto un sopralluogo alla piscina di Viale del Fante. Tante le criticità riscontrate. Ne parliamo con Viviana Lomonaco, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Lo sport chiaramente è un'attività fondamentale per il benessere, per la salute dei giovani e dei meno giovani. Il Comune dispone di strutture sportive, ma nel tempo l'amministrazione evidentemente sotto gli occhi di tutti non si è curata di preservarle, di mantenerle al meglio. Ieri con la commissione invece cultura e sport ci siamo occupati di capire anche un po' dove possono stare le criticità anche legate al personale, all'organizzazione del personale. Ora, da una parte si dice che abbiamo tantissimi dipendenti comunali, ed è vero, è un dato di fatto, è stato evidenziato in tanti modi, in tante forme. D'altro canto, sembra sempre che invece manchi personale, manchino delle figure, mancano le figure preposte o quelle che ci sono, sono non ben gestite, mal gestite. In particolare ho scoperto, con mia immensa sorpresa, che per la pulizia degli spogliatoi femminili chiaramente dedicata a una risorsa femminile, ma una risorsa che chiaramente lavora dalle 10 alle 17, non può lavorare H24 tutti i giorni, a guardare lo stato dei luoghi e anche a rendermi conto del fatto che abbiamo appunto una sola addetta alle pulizie per gli spogliatoi femminili. E in tutto soltanto 8 assistenti bagnanti, quando ce ne dovrebbero essere 18, e in tutto questo, di questi 8, soltanto uno è full time, e in particolare due da soli non possono lavorare, perché sono due LSU non stabilizzati, pertanto dovrebbero lavorare sempre in affiancamento con un operatore, un addetto, assistente bagnante comunale. Quindi in pratica ne paghi due, ma te ne servono quattro per semplificare. Allora mi chiedo, chi gestisce questo personale? Abbiamo 17 dipendenti del Reset, quindi di una nostra partecipata, ma di questi 17 addetti alla pulizia, ad esempio, ripeto, di cui una è donna, soltanto una, non vengono gestiti, coordinati dal capo impianto della struttura, bensì direttamente dai coordinatori della Reset. Ora il coordinatore Reset deve gestire il personale mandato nelle varie strutture, nelle varie strutture sportive, eccetera, eccetera. Quindi non può essere ogni presente, seguire realmente l'andamento. Quindi noi questi 18 dipendenti presumiamo di averli, ma non sappiamo se nel frattempo Reset ha deciso di trasferirli senza comunicare nulla, perché così avviene a quanto mi hanno riferito, ufficialmente ed è messo a verbale, senza riferire nulla al capo impianto, in questo caso della piscina comunale. Io ritengo che avere delle risorse e non gestirle equivale a non averle. Infatti i risultati si vedono, sono sotto gli occhi di tutti. Per cui da una parte abbiamo la città reale, da una parte la città raccontata dall'amministrazione, dal nostro caro sindaco che ormai diciamo ha il suo quinto mandato, quindi non si può dire che sia un inesperto, ma evidentemente anche se lui è molto esperto qualcosa non va. Telenoide è il robot umanoide del Robotics Lab di Unipa, frutto della collaborazione tra Italia e Giappone, una macchina prodotta appunto in Giappone, alla quale la Robotics Lab ha fornito l'intelligenza artificiale per supportare i malati di SLA e i bambini autistici. Allora, Robo Telenoide, raccontaci un po' che cosa sei. Buongiorno, io sono il Telenoide R1, sono stato costruito dal professore Hiroshi Ishiguro, ma è l'Università di Palermo e il Robotics Lab che mi hanno dato l'intelligenza. Ma tu puoi muovere la testa? Puoi muovere un po' le braccia? Cosa puoi fare? Sì, io sono in grado di muovermi, muovo la mia testa, la posso muovere a sinistra, a destra, posso muovere le mie braccia per comunicarmi i miei stati d'animo. Ho capito, ma in cosa di recente si è stato utilizzato per un documentario scientifico che parlava di che cosa? Il documentario cui ho partecipato, realizzato in collaborazione con la Germania, in Giappone e l'Italia, di fatto mi ha permesso di farmi conoscere come mediatore socio-culturale. Sono stato utilizzato per comunicare con persone anziane o affette da disabilità o ancora affette da autismo. Ho capito. È il risultato più importante che è stato raggiunto in questa collaborazione tra noi come Robotics Lab e il laboratorio del professore Ishiguro? qual è stata, secondo te? Dove sei stato più utile? Sono stato molto utile nell'ausilio al trattamento della patologia dell'autismo. Infatti, sono stato il protagonista di uno studio pilota che ha consentito di verificare il funzionamento di un robot all'interno di una classe per permettere a bambini affetti d'autismo di integrarsi all'interno della società, all'interno del contesto classe. Siamo al Dipartimento di Innovazione Industriale e Digitale all'interno del Robotics Lab. Il telenoide nasce da una collaborazione con il professore Ishiguro dell'Osaka University. Loro hanno sviluppato il robot e noi da dieci anni portiamo avanti lo sviluppo della parte cosiddetta di intelligenza artificiale. Quindi lo sviluppo di tutte quelle meccanismi che consentono al robot di questa fattezza di poter simulare i comportamenti di un essere umano e di poter interagire con esso nel medio e nel lungo termine. Cioè essere dei robot che possano un domani essere a tutti gli effetti inclusi all'interno della società degli esseri umani. Questo appunto si inserisce nella categoria dei robot umanoidi. Sì, si inserisce nella categoria dei robot umanoidi perché le fattezze ricordano un robot umanoide. In questo caso è un robot umanoide dalle fattezze minimali perché non possiede né braccia né gambe. Questa nasce dalla necessità di superare il problema che è stato posto dal professore Mori dell'Università di Tokyo che viene chiamato Uncanny Valley. Cioè quella paura che nasce nell'uomo quando un robot è troppo simile a me stesso. In questo modo si riduce la complessità emozionale nell'interagire con questo tipo di robot e quindi è più facile che un essere umano possa accettare questo robot. Il suo impiego è un impiego particolare? Sì. Il nostro è un impiego che rientra all'interno di quella che viene definita la robotica sociale. Negli anni insieme al professore Chella all'ingegnere Tramonte l'abbiamo utilizzato in esperimenti con i malati di SLA perché abbiamo dotato i malati di SLA di un caschetto che legge le onde cerebrali e che possa tradurre in qualche modo le loro intenzioni i loro sentimenti i movimenti del robot. L'abbiamo impiegato con successo con ragazzi affetti d'autismo perché l'idea insieme ai psicologhi dei psichiatri dell'ASPE alla dottoressa Iale ed altri collaboratori era quello di poterlo utilizzare come mediatore socio-comunicativo creare un nuovo canale di comunicazione che consentisse al ragazzo affetto d'autismo di poter comunicare con facilità ciò che pensa. Telenoid al momento ha bisogno di un supporto di un operatore di una guida ma in un futuro non esisterà più. In questo momento stiamo sviluppando stiamo portando avanti diversi progetti volti a dotare il robot telenoide di un'intelligenza artificiale propria lo vogliamo cioè rendere in grado di essere totalmente indipendente e il ruolo dell'operatore umano verrà ricondotto a quello di supervisore cioè esso sarà in grado di svolgere autonomamente dei compiti e l'operatore chi lo controlla di fatto potrà superare questi comportamenti soltanto in caso di necessità. Operatore umano che attualmente già si può trovare in qualsiasi punto del mondo e guidarlo da là. Sì di fatto il funzionamento del telenoid è totalmente slegato dalla sua posizione fisica. Qualche anno fa abbiamo condotto alcuni esperimenti con il telenoid realizzando uno scenario in cui due persone comunicavano fra loro a grande istanza. Una di fatto si trovava qua nel laboratorio la seconda invece si trovava in Giappone presso l'ATR. Invece qual è il vostro sogno per un futuro prossimo riguardo questi robot umanoidi? Ma potrebbe sarà sicuramente fornire alle persone con disabilità motoria come per esempio persone affette da SLA la possibilità di utilizzare robot umanoidi autonomi per essere di nuovo parte integrante della società per poter raggiungere posti e raggiungere persone di fatto che la malattia gli impedisce di vedere o di raggiungere. Le grandi e suggestive attrazioni premiate al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo sono al centro del nuovo show che Lidia Togni la signora del circo italiano ha allestito in esclusiva per il pubblico palermitano in occasione delle prossime festività natalizie il circo Lidia Togni con la grande città viaggiante sarà da domani al 29 gennaio in Viale dell'Olimpo Siamo pronte ad una bellissima conferenza stampa dedicata a Circo Togni infatti io sono proprio con lui Vinicio Togni proprio il titolare di questa bellissima struttura benvenuto e complimenti perché ho già visitato qualcosa di vostro cosa ci raccontate in questa conferenza? Sono venuto qua per presentarvi i miei artisti che saranno intanto la parte dei clown ve le voglio far vedere perché saranno quelli che nel periodo delle feste qua a Palermo portiamo un sorriso non solo a chi si può permettere di venire al circo e venirci a vedere che saranno sicuramente tantissimi ma soprattutto quelli che noi andremo a trovare che sono i bambini che in questo momento si trovano nell'ospedale e poi ho portato sempre facendo una piccola chicca il nostro mago che in realtà una parte dello spettacolo che farà è veramente magia illusione ottica ma di altissimo livello ma l'ultimo pezzo invece dove veramente rischia la vita il mago non ha più possibilità di illusione questo circo è una cosa meravigliosa perché arrivano tantissimi giovani a vederci anche perché lo spettacolo viene fatto per la maggior parte dai latini americani che sono gente che trasmettono molto sono un gruppo giovanissimo Vinicio la cosa che mi ha colpito che tu mi hai detto il fatto che poi ci sono problemi al circo gli animalisti che hai pochi anima ah ecco hai visto ecco questi sono quei personaggi che ho portato da farvi vedere che saranno poi quelli che andremo nei prossimi giorni a trovare i bambini all'ospedale Vinicio complimenti e mi raccomando tutti al circo inizia il circo quando? dal giorno 7 sarà l'inizio il grande debutto rimarrà qua fino a 29 di gennaio i giorni Lidia Togni sicuramente tutti i giorni due spettacoli un divertimento unico è lui il conduttore del circo come apri lo spettacolo benvenuti in casa Lidia Togni presentata a Palermo la prima edizione della 6 ore di Mondello in programma venerdì prossimo 8 dicembre l'ultramaratona organizzata dalla SD Palermo Running è valida come tappa del calendario nazionale del Grand Prix Utah 6 ore sono circa 140 gli atleti iscritti alla prima edizione della 6 ore di Mondello che prenderà il via alle 10 di venerdì prossimo dallo stabilimento ex Charleston su un anello in asfalto completamente piatto di 2 km con direzione circola albaria ricca e di qualità la start list della gara individuale a cominciare dal toscano Marco Lombardi già vincitore in terra di Sicilia in occasione della seconda edizione della 6 ore di Capodorlando e terzo assoluto domenica scorsa alla cost to cost Sorrento Positano ultramaratona di 54 km in gara anche il palermitano Massimo Buccafusca vincitore della terza edizione della 6 ore di Capodorlando e secondo alla 100 km della Val di Noto e Boris Bachmazza leggenda vivente delle ultra suo nel 1987 il successo nella super maratona dei Nuraghi di 254 km per tre volte sul gradino più alto del podio della 100 km Torino San Vensano alla femminile spicca la presenza di Lara La Perati a un fatrice a fine giugno alla 6 ore di Capodorlando e di recente alla 100 km della Val di Noto ma la 6 ore di Mondello non sarà solo una sfida individuale in gara ci saranno anche le staffette 14 team che si sfideranno nella 3 per 2 ore mentre saranno ben 8 quelli che affronteranno la più temibile 2 per 3 ore lo spettacolo nello spettacolo La polisportiva Raimondo Lanza delle giovani ottiene il secondo successo in casa consecutivo con il Volley Club Leoni Palermo e si attesta nelle parti di centro classifica del campionato di Serie C Ascoltiamo il presidente Pino Di Vittorio Sì insomma quest'anno come ho detto in precedenza abbiamo rignovanito la squadra sarà un anno di assestamento forse soffriremo un poco però la squadra giovane c'è e oggi abbiamo dimostrato che crescendo un altro po' possiamo dare fastidio a tante altre squadre più blasonate di noi e poi c'è stata una sorpresa l'allenatore ci ha fatto una sorpresa che l'ultimo punto va bene ha fatto esortire una giovanissima per eccellenza 13 anni Irene Sunseri che l'anno scorso ha giocato nella rappresentativa regionale quindi siamo molto molto contenti di questo esordio ed è tutto grazie per essere stati con noi come al solito vi lascio al meteo e allo sport arrivederci alle prossime edizioni a Grazie a tutti.